Il prodotto multifunzione WD40 è ottimo per la protezione delle parti metalliche dagli agenti atmosferici. Spruzzate direttamente sulle parti metalliche della bici, facendo attenzione ad evitare copertoni e superfici frenanti. Il prodotto penetra rapidamente sotto olio e detriti, creando un rivestimento protettivo direttamente sulle superfici metalliche. Tale rivestimento fornisce un'ottima protezione contro corrosione e rugine. Tale rivestimento fornisce un'ottima protezione.